Salve a tutti lettori di Windows Blog Italia, oggi vediamo questo video che è la prova di registrazione di Elgato Game Capture HD, la scheda d'acquisizione che abbiamo recensito. Il video è stato registrato con tutti i parametri alla massima qualità, quindi impostando appunto tutti i valori al massimo e in particolare abbiamo dalla console un flusso video 1080p a 60fps. Purtroppo YouTube diminuisce la qualità, quindi per chi volesse il video originale l'abbiamo incluso in un link in fondo all'articolo o nella descrizione del video di YouTube. Per provare la scheda d'acquisizione oggi faremo una gara sulle Alpi Bernese con la McLaren P1 con appunto Forza Motorsport 5, lo vedete adesso sul flusso video e andremo appunto a vedere come si comporta la scheda d'acquisizione quando con una situazione così intensa come può essere ad esempio una gara quindi con la console sotto stress. ovviamente poi toglierò quando iniziare la gara toglierò il commento audio per lasciarvi sentire tutto l'audio che viene catturato dalla scheda, perché adesso state vedendo solo il video ma già il video comunque potete vedere che è molto fluido, non presenta rallentamenti di alcun tipo ed è quindi insomma di una qualità veramente ottima. e la stessa cosa poi vale per l'audio, quindi anche l'audio viene catturato in modo molto molto buono e appunto non presenta anch'esso alcun tipo di problema. Adesso la gara sta per iniziare, qui sto finalizzando le ultime, impostando le ultime configurazioni quindi il numero di giri, il numero di avversari e poi puoi partire la gara. Intanto quindi disattivo il commento per permettervi di sentire appunto l'audio originale. Un saluto da Emanuele Curati per Windows Blog Italia. Un saluto da Emanuele Curati per l'audio. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.